Il governo rigido aveva costretto Firenze a cercare di acquistare grano fuori dalla Toscana. È per questa ragione che Giovanni de' Medici arriva a Forlì. Giovanni de' Medici si fa chiamare insieme al fratello Lorenzo, il popolano, per distinguersi dal ramo principale della famiglia, discendente da Lorenzo il Magnifico, allontanato dalla città con l'arrivo di Carlo VIII. I popolani sono dei medici a tutti gli effetti. I popolani vivono nel palazzo di Via Larga e sono amanti delle arti. È Lorenzo il popolano, fratello di Giovanni, a commissionare a Botticelli opere come La Primavera o Pallade che doma il centauro. Ma le frizioni con il ramo principale della famiglia consentono a Lorenzo e Giovanni di restare nella Firenze ormai guidata da Savonarola. In breve, la missione a Forlì di Giovanni il popolano, più giovane di Caterina di quattro anni, finisce per tramutarsi in un'appassionata storia d'amore. Caterina vuole tenere segreto quel legame non solo per la sua proverbiale riservatezza, ma anche perché suo zio, il duca di Milano, Ludovico il Moro, odia Firenze da quando ne sono stati cacciati i medici e con i tempi che corrono, Forlì non può fare a meno della protezione di Milano. Ma alla fine, la pancia di Caterina dice al mondo quello che lei fino a quel momento non ha voluto ammettere. È il 6 aprile 1498, quando a Ravaldino Caterina, a 35 anni, mette al mondo il suo ottavo figlio, Ludovico, nome scelto per rendere omaggio al temuto zio di Milano. Schiacciato dagli altri fratelli, il piccolo sembra destinato ad un futuro incerto e invece sarà il più fecondo tra i semi di Caterina. La vita di Ludovico, più breve, ma non meno splendente di quella della madre, comincia in salita. Infatti, a soli cinque mesi della sua nascita, dopo una breve malattia, il padre Giovanni muore a 31 anni tra le braccia di Caterina che si ritrova così vedova per la terza volta. Neanche questa volta, però, c'è molto tempo per piangere. Da qualche mese, il panorama politico è di nuovo in fermento. Papa Alessandro VI Borgia ha stretto un'alleanza con il nuovo re di Francia, Luigi XII, e ha fatto di suo figlio Cesare lo strumento con cui affermare l'autorità della Chiesa sugli stati del centro Italia. Cesare Borgia, giovane, spregiudicato e spietato, va in Francia per sposare una principessa francese e rientra in Italia col titolo di duca del Valentinoan, che subito in italiano diventa duca Valentino. Il Valentino, oltre al titolo, porta con sé anche un esercito con cui inizia l'occupazione della Romagna. Tra i primi obiettivi ci sono Imola e Forlì, le città di Caterina. Forlì, Rocca di Ravaldino, dicembre, mici. Caterina pensa a quello che ora è un errore commesso un anno e mezzo prima, nel maggio 1498. Un momento in cui tutto sembrava andare per il verso giusto. Uno stato tranquillo, un marito giovane, un figlio appena nato, l'amicizia di Firenze e di Milano. E il papa che vuole fare un'alleanza. Nel maggio 1498, Alessandro VI ha appena ottenuto che la figlia Lucrezia si separi dal suo primo marito, il signore di Pesaro Giovanni Sforza. I motivi del divorzio sono politici, ma ufficialmente la scusa è che il matrimonio non è stato consumato, quindi è nullo. Alessandro VI propone a Caterina di far sposare il suo primo genito ed erede, Ottaviano Riario, con sua figlia Lucrezia. Due importanti città della Romagna entreranno così nella sfera di influenza papale. Ma Caterina rifiuta. Tutta Italia sa che il matrimonio di Lucrezia non è stato bianco, come si vuole far credere. E poi il signore di Pesaro è un suo parente e non le sembra il caso di fargli uno sgargo. Al papa, ovviamente, Caterina scrive che il suo figlio non può ancora sposarsi perché è impegnato nella sua carriera militare. Ma la ragione vera è in una lettera inviata in quei giorni a Milano. Caterina disprezza e teme la giovane Lucrezia Borgia. Quando vorrò dare moglie a mio figliolo, penserò di dargli tale persona che non abbia ad essere repugnante. e contrario alla quiete e bisogno mio. Ma i guai che si temeva potessero arrivare da Lucrezia Borgia, poco dopo giungono moltiplicati mille volte dal fratello. Già qualche mese prima, un solo anno dopo l'offerta di unire i rispettivi figli in matrimonio, papa Borgia aveva nominato il figlio Cesare vicario papale di Imola e Forlì. Caterina e Riario venivano così rimossi con la scusa di non aver pagato i tributi dovuti a Roma. Ma non bastava certo una bolla per far retrocedere una donna come Caterina. Bisognava usare la forza. E per quello c'era il Valentino, la cui fama era tale da indurre molte città a cedere senza combattere. Anche Imola e i primi di dicembre aveva fatto così, scatenando le ire di Caterina che iniziò a prepararsi alla resistenza. Caterina usa tutte le armi di cui dispone. Si prepara a resistere. È forte delle sue conoscenze alchemiche e naturalistiche. Prova il colpaccio. Invia al papa una lettera abberinata. Qualcuno dice che la lettera sia stata tenuta per qualche giorno nella vara di un uomo morto di Lebra. Ma Alessandro VI è troppo scaltro. Non prende la lettera e fa arrestare i messaggeri giunti da Forlì. La fortuna le ha girato le spalle. Ma Caterina fa finta di non accorgersene. Spera che presto appaiano anche le bandiere di suo zio Ludovico il Moro, deciso a riprendersi il ducato e a salvare la nipote. Ma intanto bisogna difendersi. Gli abitanti di Forlì, impauriti, si arrendono al Valentino e ai suoi 12.000 soldati. Caterina resta nella rocca con 900 uomini. Il Borgia sa che la rocca e la sua signora sono un osso duro e prova a trattare. Subito dopo Natale, il Valentino si avvicina più volte alle mura per parlare e fare proposte allettanti in cambio della resa. Dagli sfalti, Caterina, che non si fida, rifiuta ogni proposta. Preferisco morire piuttosto che consentir da fare accordo, pacto alcuno. Alle trattative seguono le cannonate. Per due settimane la rocca è bersagliata da circa 400 colpi di cannone al giorno. Ancora oggi è possibile vedere il punto dove il lungo cannoneggiamento voluto dal Valentino provocò la breccia che consentì ai suoi uomini di entrare nella rocca e conquistarla dopo un breve combattimento. Caterina non è più la signora di Forlì. Forlì, Palazzo Numai, 13 gennaio 1500. Palazzo Numai prende il nome da una delle principali famiglie di Forlì. Luffo Numai è l'uomo che ha più insistito perché Forlì si arrendesse senza combattere e ora ospita Cesare Borgia. Ed è qui che il Valentino porta Caterina prigioniera. Cosa sia esattamente accaduto tra i due nelle stanze di Palazzo Numai non è mai stato chiarito. Osservatori e cronisti riportano i pareri più contrastanti. C'è chi dice che fu il Valentino il vero prigioniero di quelle stanze in quanto rimase ammaliato dalla bellezza della signora di Forlì. Altri invece affermano che Cesare Borgia per umiliare la fierezza della contessa signora di Forlì le usò violenza per giorni e giorni tenendola prigioniera di quelle stanze. Resta il fatto che Cesare Borgia fece dono alla contessa di numerosi preziosi abiti che le chiese di indossare per lui in privato. La passione se c'è stata dura comunque pochi giorni perché ben presto il Valentino decide di rientrare a Roma con la sua preziosa prigioniera. In Vaticano per Caterina la prospettiva è quella di una prigionia adorata. Ma quando Caterina rifiuta di firmare una dichiarazione in cui rinuncia ai propri diritti su Forlì ed Imola le cose cambiano e per lei si aprono le segrete di Castel Sant'Angelo. Nella rocca più importante di Roma l'ex signora di Forlì rimane prigioniera dei Borgia per 16 mesi. Il 30 giugno 1501 Caterina torna in libertà grazie alle pressioni dei francesi che ricordano ai Borgia che non erano questi i patti per i quali era stata ceduta al Valentino. Alessandro VI deve cedere e Caterina lascia a Roma per Firenze. È stanca e vuole solo rivedere i suoi figli soprattutto il piccolo Ludovico che ora viene chiamato Giovanni per ricordare il padre ma per lei c'è ancora da combattere. A Firenze Caterina si scontrò immediatamente col cognato Lorenzo De Medici il quale aveva dilapidato ormai quasi totalmente il patrimonio di famiglia e per questo mirava alla tutela del giovane nipote per acquisire anche per sé la parte di eredità del fratello Giovanni. Da qui iniziò una lunga battaglia legale che durò parecchi anni ma che si risolse con la vittoria di Caterina. Gli ultimi anni di Caterina sono a Firenze dove vive soprattutto nella villa medicea di Castello. È qui che segue l'educazione del piccolo Giovanni che dimostra ad aver preso molto dalla madre per carattere e indole alle armi. Da ogni punto di vista Giovanni è e sarà sempre più uno sforza che un medici più guerriero che mecenate più condottiero che politico più coraggioso che ricco. Come Giovanni dalle bande nere diventerà ben presto uno dei più note e capaci militari italiani dell'epoca l'ultimo dei grandi capitani di ventura vittima a soli 28 anni della stessa arma che aveva decretato la fine del potere politico di sua madre un cannone. La ferita rimediata in una scaramuccia con i lazichenecchi che stanno invadendo l'Italia porta rapidamente alla morte del giovane condottiero la cui fama resta però intatta nei secoli successivi. Un figlio capace di coprirsi di gloria sul campo di battaglia un sogno che Caterina non avrebbe visto avverarsi ma nel quale sperò fino all'ultimo anche quando sa che la fine sta arrivando ed è il momento dei bilanci. È il 1509 nella quieta degli ultimi anni Caterina ha avuto qualche soddisfazione e qualche ulteriore delusione. Ha visto cadere per sempre i Borgia dopo la morte di Alessandro VI e ora al suo posto c'è un suo parente acquisito Giulio II della Rovere cugino del suo primo marito. Ma non può tornare a Forlì dove ci sono nuovamente gli Ordelaffi al potere e dove i Forlivesi comunque non la vogliono più. Una delegazione di Forlivesi andò a far visita al nuovo Papa Giulio II della Rovere per chiedergli di impedire il rientro dei riari o sforza a Forlì. Questo perché a Forlì si temeva le vendette che Caterina avrebbe messo in atto contro chi l'aveva tradita nel 1499 aprendo le porte della città a Cesare Borgia. Caterina muore il 28 maggio 1509 a Firenze dopo aver fatto testamento. Ordina di essere sepolta senza lapide davanti all'altare maggiore della chiesa del monastero delle Murate e lì rimane fino al 1835. Nel 1835 la lapide di marmo della tomba di Caterina venne rimossa e il corpo venne riesumato. I resti mortali vennero affidati a un pittore fiorentino il quale li spedì a Forlì ma a Forlì vennero considerati di dubbia attribuzione e di non certa provenienza per cui vennero respinti tornarono a Firenze e da quel momento in poi se ne perdono le tracce. ma anche senza tomba con i propri resti dispersi e senza un ritratto certo Caterina ha lasciato molto anche senza contare le straordinarie vicende di cui fu protagonista e il prezioso trattato sugli esperimenti Caterina ha segnato la storia con la sua discendenza. Infatti per oltre due secoli la Toscana divenuta Granducato sarà retta da suoi discendenti diretti a cominciare da Cosimo I figlio di Giovanni dalle bande nere sempre da lei discenderanno donne destinate a divenire regine in Europa come Maria de' Medici in Francia ma nessuno dei suoi eredi seppe unire come lei cultura e forza militare tenacia e passione intelligenza e istinto violenza e fede crudeltà e tenerezza coraggio e amore